Luglio col bene che ti voglio vedrai non finirai Un caldo incredibile oggi, il meglio che c'è è venire a quel lito di Bolzano Ottimo, non c'è niente di più meglio Sì, la migliore proprio, ci sta, bellissima Sì, sì, è la scelta migliore anche perché con il caldo ci sta bene A Lido, anziché in città, con l'asfalto e tutto fa più caldo Ma venite spesso qua a Lido di Bolzano o solo occasionalmente preferite magari altri lì di fuori? Occasionamente, da un po' che non ci vado, almeno io Oggi sono voluto andare qua, venire qua Ci sta molto bene, si respira un po' di aria buona, diciamo, fresca Perché c'è anche bella gente, certo Ma voi siete degli abitué o di solito preferite magari andare in qualche altro Lido? No, siamo degli abitué, abbiamo l'abbonamento Insomma, siamo quasi tutti i giorni qua E non c'è altro, però è bellissimo il sole e poi guarda, è la mia vita Lo amo, mi piace e sto bene qua Siete degli abitué o di solito siete in altri lì? Ogni tanto, due volte alla settimana, tre Vediamo che sta giocando qua col piccolino Con il caldo di oggi la scelta migliore è sempre quella di venire a Lido di Bolzano Certo, certo, sempre bello il Lido Ma siete degli abitué o venite solo? No, no, siamo degli abitué Un po' tanta gente però, insomma È il posto più comodo dove venire, con la bicicletta Non c'è altro La scelta migliore è sempre quella di venire qua a Lido di Bolzano Sì, è vero Sì, sì, sì Ma voi siete degli abitué o? Sì, sì, ogni giorno Veniamo qua ogni giorno, ogni istata Voi invece? Anche Beh, io adesso parto quindi Cioè, per passare un po' il tempo Ovviamente l'ha meritata vacanza allora? Sì Promossi quindi E tu, te invece? Sì, anch'io vengo sempre con loro È bellissimo, è divertente Te anche andrai in vacanza o la tua estate proseguirà qua a Lido di Bolzano? No, no, fra poco parto anch'io Magari torno ad agosto